I'm off my car Però adesso non si capisce niente Allora alziamo questo volume Ok ok così è meglio Allora vi stavo dicendo No non credo che l'ho portata Perché ho cercato Un attimo nel canale ma un anno fa Non c'è questa caratrolla Allora mi diamo Che Praticamente perché tutti fermi Che è successo? Ah niente niente Regà mi fate guarda Un attimo Eh non credo che sale dalle scalette Allora non so se ho usato I pezzi moddati perché qua c'è la macchina No forse non ci sono Perché in quel periodo non c'era I template è possibile Regà Ok io rimango così basta sono offeso Questa è la caratrolla E pure Alberto ci smette Respawniamo Ok un po' di pace Allora Potrebbe essere qua Regà Non c'è nada C'è qualcosa? No Non c'è niente Non c'è niente Se no Allora non si sale Vediamo qua regà No qua non c'è niente Nessuna rampetta invisibile Mamma mia quanto scivola questa macchina regà Sui Te prego Già E' difficile da guidare sta macchina Guardate ci mette 50 anni andare tra marcia Però è bella per driftare questo Chi è oh? Che avete trovato regà? No se spattola prendo il check Do Au Lì sicuro? Ah grande 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 Sui E c'è il turbo Aspetta un attimo Perché ho visto pure un'altra rampetta Au Au Ok E' Di qua Allora vediamo un attimo regà Au Au Raga C'aveva ragione C'aveva ragione il suino Però non vedo turbo eh Aspettate un attimo Ah ok Te sei passato per di là Ok Ah no 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 Ce la faceva anche senza E te da dove sei passato? Sui Raga Aspettate un attimo Hernantex Dove sei passato di sui? Allora Dobbiamo respawnare? Ok Si esce da qua Perfetto Ah no no C'è la rampetta invisibile qua Sì sì Ok Ok Allora Dobbiamo passare al secondo troll adesso No raga Io non mi ricordo di aver giocato Il porkmoz troll numero 7 eh Allora aspettate Ok Artalberto che già sta avanti Nemmeno ci dice i trucchetti Ok Credo di aver capito Però da qua non posso più scendere Vero? Sì invece Vedete c'è la rampetta là Semplice semplice Che dici? Ce la facciamo NG Con questa rincorsa Sì aspettate eh Perché retromarcia sui? Aha Eh sennò basta Fermare la macchina eh Sì sì Retromarcia? E dice è possibile Allora aspettate un attimo raga Che l'acchiare di da troll Non credo eh Ho preso il check raga Non chiedetemi come Ero lontano un chilometro dal check eh Allora vediamo un attimo i messaggi 3 eh Tearo Mirkoli Ma che teare albè Allora Puoi salutare Millus Salutiamo Millus Lascia una rampetta raga Poi bella ninja E Strano che c'è la rampetta qui eh Ah no ma è quella di prima raga Prima cosa devo capire Ok Il check sta lì Se entriamo qui Non credo che risolviamo qualcosa Sarebbe troppo facile Non credete E infatti Che si può entrare qua dentro no? No no Andiamo Guarda l'Ernandex Come sta avanti È il secondo sui sì sì È il secondo Sta andando da quella rampetta Quella è quella di prima Sta andando là veramente eh Ah no no E Qua è chiuso Aspetta No Non c'è niente qua raga Che sta a fa Allora aspettate Non si capisce raga Ai ai Ho visto Ho visto raga Aspettate eh Eccola la rampetta Ma ha visto Ernandex? Però chi mi ha visto? Alberto Guardalo che fortuna È appena arrivato E già ha visto la via Ah no aspettate E E respawniamo Respawniamo Ok Pure troppo No no vai qua sui Ok ok Così va benissimo Perfetto E E non avete visto la via raga? Si esce da qua Ok Aspettate Ole ole Ci siamo E usciamo fuori da qua Dove stanno gli altri? Hanno trovato la via? Allora aspettate eh No no Mini GP? Ah no no Stanno qui? Il check Dov'è? Di sicuro Alberto Ha già trovato il check Perché me lo indica Sotto? Ho preso il check? Eh Devo respawnare Raga Se è sotto Respawniamo un attimo Raga Perché il check Era sotto Ma io non ci sono mai andato qua raga Abbiamo mai fatto una gara 2 Si passava qua Credo di no Andiamo andiamo Siamo terzi eh Dobbiamo recuperare assolutamente Ok chi è quello? Alberto Alberto Abbiamo recuperato Ok Ah non c'è bisogno di respawnare Ole Quindi stanno tutti qua Credo di sì Allora niente messaggi Eh Quella rampetta è l'unica No però è chiuso anche lì Quindi bisogna trovare un saltino che sta tipo qua Quella rampetta Ma Eh no Non risolvo niente perché non si può entrare là dentro eh Oh ho trovato il punto raga Eh l'avevo visto pure io Però dobbiamo scendere giù Come scendiamo? Eh ho visto ho visto sui Non so come scendere però eh Ok se scende da qua Perfetto Così ci mettiamo due secondi Ole ole Ci siamo Andiamo Quanti c'è che sono? 13 su 62 Non è piccolina la garetta eh Allora Qua c'è la rampetta invisibile Ole Ci siamo Ci siamo Che meraviglia Gli altri sono rimasti leggermente indietro eh Ok Allora Alberto dove scappi? Prendiamo il check Quiltro là Sì E qua avrà chiuso Eh sì Allora con i pipes si esce dopo eh Eh pure qua avrà chiuso E che già avete un mezzo container Sì Vediamo qua Magari si deve saltare da questa parte Tipo qua il parcheggio Vedete? E forza il suino No 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 rega ho sbagliato Mi sembrava il turbo Ma a parte è chiuso pure il parcheggio Lo re No rega Non mi dico che devo fare Da una casetta all'altra eh Perché qua diventa harde eh Allora Fino adesso è andato bene il troll Alberto ce l'ha fatta? Albe No non ce l'ha fatta Se mi indica prima a me eh Dove sta andato Alberto? Seguiamolo rega Questo sarà via Alberto Allora Hardal Ah è vero C'ha ragione Mi sono ricordato pure io Che c'era una rampetta Andiamo Albe C'era quella rampetta Che avevamo visto poco fa Andiamo Andiamo Meno male che ho visto Alberto Se no mica mi ricordavo Che sta via Perché retromarcia? Perché era già passato qua rega C'è ma io crede eh Dovevo stare fermo Vediamo Eh sì Era retromarcia È retromarcia Ok Usciamo Fuori Ce la facciamo marcia indietro? Ole Ole Ci siamo Andiamo rega Allora Niente messaggi Prosegue bene Prosegue bene la gara E adesso dobbiamo salire qua Perdona Alberto Aspettate un attimo Suiviamo Alberto Oh The thrifty Occhio occhio Dove sta andando Alberto? Ma Ho già preso il check No no perché Aspettate aspettate Alberto stai Ma che vie Dove sta andando? Non c'è niente Non c'è niente Eh no dobbiamo seguire Rega No no Rigirate Ok Andiamo Allora Sta pensando Alberto E' pensieroso E' trovato qualcosa? Non lo so Io seguo A lui rega Sicuramente c'è qualche rampetta Va dentro Non lo so Guardalo come pensa Va piano piano Chi è? A marcio Ma quando è arrivato? No marcio è quinto Sui Allora aspettate Che Alberto sta pensando Rega Come vedete si è pure fermato Ok Che sta fa? Ci ha ripensato Bisogna tornare indietro Ok Vediamo qua rega Chi è che sono? Hai trovato la via? Sui Ehm Andiamo andiamo Seguiamolo Dove Gigi? Dove? Dove hai trovato la via? Qua? O questa rampetta Ah la rampetta La dobbiamo prendere al massimo Veramente rega? Possibile eh Con tutto quel busto Se ci arriviamo Ok andiamo Ok Aspettate Dove è il check? Ehm L'abbiamo leggermente saltato Il check Quindi dobbiamo bloccare la macchina Teoricamente Eh sì Mettiamo la macchina bene Tipo così Sì No Sì Sì Tutto ok Mi sa che è così rega L'aveva calcolata così Lorenzo La cara Allora Dobbiamo uscire da questa parte Oh Oh Che è sto dubbo Ok grazie Perfetto Guarda Alberto Che fugge sempre eh Se vuole tenere tutte vie No no Siamo a premere di nuovo Sicuri che trolla? Non è che Si deve passare tipo qua No Tutto troll Però Dovrebbe essere facile Check La è chiuso Come vedete L'unica soluzione Sarebbe lì No Ha chiuso Eh raga Nemmeno Alberto Ce l'ha fatta Perché ci dice Che siamo primeri Quindi Oh Io provo per di cogliere Ah Possibile che Che dobbiamo andare là eh Qua sopra Regà Adesso non per di qua Niente eh Niente di niente eh No Nemmeno qualcosa di invisibile eh Non c'è Niente Credo No niente niente Stanno andando lontanissimi eh Alberto ce l'ha fatto No Sta dall'altra parte Ma Secondo me bisogna andare qua eh Non sono super sicuro Oh Se no facciamo così Eh raga Boh Ci vogliamo provare raga Vediamo un attimo Però non ho capito dove è passato Alberto raga Ok Saliamo Messaggi 2 Dal retro Dei parcheggi Devi salire Retro dei parcheggi Ringrazio Alberto Però Non ho capito Forse sta andando bene Forse ho saltato la mica rampa Perché sto salendo senza Guardare niente Chi è che mi sta a raggiungere? Nessuno Quali parcheggi? Regà perché ora le stanno altri parcheggi Ah Ho capito Va bene per di qua Sali nei parcheggi? Sì 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 Andiamo andiamo Questa la via Scusami Salire? Sì Bisogna salire Dai raga ce la dobbiamo sprecare Se no ci perdiamo tutti i troll Sali 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 Ok Ma quanto bisogna salire? Guardate come thriftà bene questa macchinetta Oh lei c'è la rampetta? Sì 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 Ok ci siamo Però siamo quarti Regà perché dopo ho visto E vabbè andiamo andiamo Adesso recuperiamo Non vi preoccupate Olè Quanto stanno avanti gli altri? Speriamo che Sontrollati eh Oh guarda che drift Mamma mia Mi sa che stanno tutti qua regà Credo di sia Oh Parkurito? Ok siamo già terzi Dobbiamo andare là sopra E come? È tutto troll E' vero? Eh no regà Nemmeno così Magari con un flip possiamo Non credo Allora qualcuno che Qua? Aspettate Non c'è nessuno Sono solo soletto Andiamo Allora Ai 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 Ok Prima via vista Questa cosa è positiva C'è un'altra rampetta lì? No Scusami Ok Allora aspettate un attimo Non mi mette bene Sui Te prego Oh No Non credo eh Sì invece Credo Credo No Sì Ci siamo regà Allora possiamo andare Ok Ok Anticheck Metà gara A 22 minuti No devo andare là sopra Ah nessuno ha preso il check Ok Buono Buono Non c'è trovato la via Riga Alberto sta a cercare di là Gigi dove va? Di qua Chi hai visto? Andiamo Su Non c'è niente Non c'è niente Allora Tre missaggi Nuova Christian è buona Trollata Marcio mi arrendo Come ti arrendi? Bastava che ci seguivi Alberto Dove sta Andando? Che hai trovato Albe? Aspettate Sta pensando Sì sì Continua a pensare E osserva pure Dove? 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 Che c'è là? Non lo so Riga Noi si vogliamo Alberto Non lo so Riga Proviamo a cercare Qualche via noi Allora Non c'è niente Niente Di niente Ok riga Aspettate eh Che ce l'ha fatta? Come ti chiami? Stex? Come fa tu? Io scritto Come ha fatto A A prendere il check Ok Respauna qua Spostate No riga Mi sta a trollare C'è credo E perché cosa succede? Ah Oh mio dio Sei un grande Ti ringrazio Aspettate eh Ma io pensavo Che era un troll Ma io dico eh Un grande Un grande riga Allora aspettate un attimo Ok Aspettate No Non sono riuscito A prendere check Sono riuscito A prendere check Aspettate un attimo Oh Qua devo cascare Ok Ok Ci siamo Allora Alberto Non l'ha vista La mia Poveretto Aspettate eh Sta a cercare Mi sa eh Mercolio hai trovato qualcosa? Sì Ho trovato qualcosa Aspettate un attimo Ehm Scriviamo Come se scrive Respauna Eh riga Lo scrivo a modo mio eh Ok riga Come faccio Uscire Così 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 Siamo terzi Comunque All No Sì Possiamo uscire da qua Ma guardate Oh Respondiamo di nuovo Da che ce la fai? Ok Ok Ci siamo Allora pure altre Hanno visto la via Sì sì Ehm Prendiamo il check E pure ad Alberto Io dovevo scrivere Spawner Riga Aspettate eh Ok Ok Possiamo andare Adesso siamo a posto Che prima mi ha detto la via Alberto mi ha aiutato Poi mi ha aiutato Stacks Bisogna ricambiare Riga Ok Questo è il troll di prima No? Quindi avevo visto Che c'era una rampetta qua E ce n'è anche un'altra lì Come facciamo a entrare qua? No Da là non si può salire Oh Stacks le sa tutte Aspettate riga Ah no ma questi stanno andando di qua Riga Aspettate No Sì Di qua Forse ha saltato da qua Ma non credo eh Oh Cioè scusa Mesoe Vai Aspettare la riga C'è un parkurito da fare Ok Ci riproviamo Oh Alla riga ci siamo E allora da qua è passato Si Ok E adesso dobbiamo andare là No 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 Così No Le gancio Io credi Ok riga ci riproviamo Spostate Ok stavolta ce la facciamo eh Ok siamo messi bene eh Non so se serve ad andare in corsa eh Questo non lo so No 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 Sì 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 Va benissimo qua sui Che tanto ce la fa a prendere il check Dai prendi sto check sui Sì Ho preso il check regà Sono contento Allora KNG primero Da qua si esce Sì questa è la rampetta che ho visto poco fa eh Quella rampetta non è nuova Questa qui riga Non lo so Non ho idea riga Allora Vediamo un po' quello che c'è adesso eh Sta registrato Sì sì Tutto ok Ai 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 Scevolo il CC Ah stava facendo una rampetta Sì Aspettate un attimo Che questa via È sospetta È aperta Come faccio a salire sopra quella rampetta C'è che sta lì Dici qua Allo stesso punto di prima Non è che mi stai indica la via vecchia Eh no riga Come facciamo andare lì Eh Come facciamo riga Eh no Come vedete bisogna andare lì Non lo so Non lo so Siamo tutti qua L'unico che ce l'ha fatta Hernandex però Come possiamo fare Allora Di nuovo là Ma che PNG ce l'ha fatta eh Ma mi sembra strano eh Veramente troppo strano Come stanno indica la via vecchia Ma non credo eh Eh no Qui cosa combiniamo Niente Ho capito Ho capito riga Aspettate ma non rispavano già là dentro Io Ah respawniamo fuori Ecco perché riga Che troll Che troll Adesso ho capito tutto Quindi dobbiamo fare Per forza Lo stesso percorso Ma prendere una bella velocità Io non avevo capito Oh mio dio riga Dopo 50 anni Ce l'ho fatta Anciò io crede Mamma mia riga Che chiara Allucinante Non dico niente Allora aspettate Che poi bisognava rifare Tutto il giro Ogni volta Vi garantisco Che non c'era mai Una volta Mamma mia Grandissimi GG Shadow Backup NG Andiamo Andiamo Fasi finita No ancora No riga Ancora Non ci voglio crede Aspettate Calcolate che è pure tardi Troppo tardi Hanno quittato tutti Sono andati tutti via Riga Allora Prendiamo il check Che so con le luci là Bagnerine riga Ah i paletti Sì sì E qua Ah non avete ancora preso Questa via riga Allora aspettate un attimo Dove Di qua Ti seguo Ti seguo Andiamo Da questa parte Ah si prende da sotto Il check riga Dico niente Dico niente Oh le Respawniamo E adesso Come si esce Ah da questa parte Ok ok Riga non connetto più dopo Un'ora di cara Qua è chiusa Per Posso passare Ok c'era Un momento Mi stavo a trollare C'era il turbo Ok ok Andiamo Ok riga Oh come ho schiacciato A quello Scusate È chiuso Quindi E la miseria Quanto turbo c'è Alla fine Ok mettiamoci bene Dove Così Ah Dobbiamo scendere Giù Ah Ma riga Allucinante Diciamo che ha fatto Una gara troll Leggermente Hard Che dite No riga Non c'è stacca Per più niente Ok Ok KNG È nei guai Ma come si fa Andare avanti Oddio No No scusami Aspettate Ce la dovrei fare io Dai 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 grappati Ok Ok ci siamo Riga fino a qua Aspettiamo un attimo KNG Che ha buttato In acqua riga Ho visto qualcosa volare Riga quasi un'ora di gara Quasi Ole ole Possiamo andare sui Possiamo andare Possiamo andare Perché fermo Ok Andiamo Andiamo Serve ad andare in corsa Come funziona qua Ehm Come Non c'è niente No no Fai 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 Piano Piano C'è riuscito No Non ho capito Riga Ma come Retromarcia Riga io non ho capito Non ho capito No ma non è qui Non è quella la via Riga è impossibile Oh riga Eccola la via Eh si E' questa la via Non ce l'ho Io credo Ok Questa è la perfezione No Che sta succede? Ok Quante sedie ho rotto Ole riga Perché dobbiamo Tornare indietro Aspettate Prima questo check E forse Credo di aver capito Perché là c'è una rampetta Per tornare indietro Riga Ole Prendiamo pure questo check Riga Dai veloce Veloce Non ce la faccio Più Ma qui è trolla Ho capito Ho capito Non vi preoccupate Riga Tutto sotto controllo Allora Qua non c'è turbo Vedete qua C'era una rampetta Sì sì Sta qui Ok Ok Guardate l'ha gisciato Perché ce l'ha fatta Anche nella parte troll Non lo so Riga Ok Ci siamo Stanno arrivando gli altri Credo di sia Andiamo Andiamo Che gara Riga Una tragedia Sta gara Che appenneci Alla fine Che c'è Tre tubetti Riga Sì sì Ma si conclude Direttamente lì Sì Si conclude Si conclude Lì Non riesco più a parlare Riga Come facciamo Andiamo 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 Ah così Semplicemente così Non c'era anche una parte troll Mamma mia Riga Che gara Comunque sia Se vi è piaciuta Questa gara Trolla Facilissima Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale E noi ci becchiamo Al prossimo Che bello E noi ci becchiamo E noi ci becchiamo E noi ci becchiamo